Vai sta registrando Vorrei toccare con queste parole un fatto che ancora un po' mi muore Vorrei parlarvi cari ragazzi del capitano Marco Galani Lui si sperava della vittoria così pensava entrerò nella storia Abbiamo scancolato il poverazzo con la sua squadra di Barca Tenaccio Però ha venuto nei fatti i suoi ragazzi soddisfatti Non pariva, non pariva Ben di soli, ben di soli Il telelitto non ha tirato un colpo di lì Devo parlare del Conte Vallucci Che mi ha sbagliato tu fino a prossimo Caramanchi, Giulio, forse perché ti lavori ma nei combinati tutti colori E tutti i colpi con i nostri amoretti Non l'hanno stati al 130 Ma non importa perché non si scappa Ogni tre colpi tirava una flappa Alessandro Alessandro Ve lo ricordo Il più che da giocare è da riporto Marco la tirava molto lontano Toccava lui, toccava in mano Siamo ancora Ma loro mancano Però Arcidelia Sostranno a giocare Avranno pensato Chi ce l'ha fatto fare Cristian, Max e Bianchi Roberto hanno tenuto il match un po' aperto Loris ha vinto la prima giornata ma poi la bocca non l'ha venuto a casa tutto questo alla fine per ricordare che a successo mi tocca pagare il video è bellissimo